Raimondo Cacciotto, vissuto la politica sia da rappresentante in Consiglio Comunale sia da rappresentante algherese in Consiglio Regionale, cosa fare per la sanità nel collegamento tra città e regione? Ma è proprio questo il punto, è proprio questo il punto perché nei luoghi dove si decide e nei tempi in cui si decide bisogna essere rappresentati. Alghero oggi conta una scarsa rappresentanza istituzionale da questo punto di vista, così come anche nel recente passato, abbiamo sempre avuto pochi rappresentanti del territorio e quindi manca la conoscenza specifica delle peculiarità dei servizi presenti nei territori. Nell'affrontare una riforma importante come quella sanitaria, questa conoscenza genera degli squilibri importanti. Conoscendo la macchina amministrativa, cosa realmente la politica algherese può fare verso Cagliari? Ma qua è proprio un problema politico, nel senso che la raccolta firme sta a rappresentare il fatto che occorre una mobilitazione importante della cittadinanza a supporto dell'azione politica istituzionale del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale e tutto. Devono essere supportati da una movimentazione che non si è mai vista, deve essere una mobilitazione importante, anche numericamente, per portare a conoscenza di chi deve decidere quali sono le necessità di questa struttura, dell'ospedale marino che ha rappresentato per anni un'eccellenza nella sanità sarda, così come per gli altri servizi, gli altri reparti che hanno avuto e hanno delle professionalità importanti. Abbiamo parlato di grande mobilitazione, oggi vediamo tanti politici, tanti membri dei partiti, pochi cittadini. Ma è vero, ci sono tanti rappresentanti dei partiti, dei movimenti politici, però ci sono anche tanti cittadini che sono passati, hanno firmato, sono già andati via e poi è oggi il primo giorno di raccolta. Ecco, il punto è proprio qua, cercare anche nei giorni seguenti di coinvolgere la popolazione amplificando, moltiplicando i punti in cui si possono raccogliere le firme a sostegno di questa iniziativa e quindi alla fine essere tanti, così come non lo siamo mai stati. Ripeto, anche in passato sono state fatte delle manifestazioni importanti, ricordo nel 2012, mi pare, sotto la consigliatura del sindaco Lubrano siamo andati a Sassari, una grande mobilitazione, pullman anche partiti da Alghero, alla fine eravamo 200, 200 per rappresentare le stanze di un territorio sono pochi, sono pochi, dobbiamo essere tanti e dobbiamo essere soprattutto decisi e risoluti. Grazie. Grazie.